Buongiorno a tutti e bentrovati alla rubrica domanda risponde. Quest'oggi parleremo della fine dell'anno scolastico e degli adempimenti dei docenti. La prima domanda a cui daremo risposta è la seguente. Quali sono gli adempimenti finali del docente a chiusura dell'anno scolastico? Allora, intanto diciamo che il dirigente scolastico di norma verso la fine dell'anno scolastico farà una circolare in cui ricorderà tutti gli adempimenti che i docenti devono compiere. In linea generale i docenti dovranno depositare nell'archivio preposto i compiti in classi ed altre esercitazioni scritte, consegnare le relazioni finali per ogni singola classe sul lavoro svolto con verifica della programmazione iniziale, consegnare i programmi svolti delle materie anche in dubbio copia, nel caso delle scuole secondarie di secondo grado dovranno essere sottoscritti oltre che dal docente anche dagli studenti, consegnare il prospetto delle ferie da fruire nei mesi di luglio e agosto, consegnare un prospetto delle ore svolte che vanno retribuite col fondo di istituto, cioè le ore aggiuntive oltre l'orario di servizio. Per quanto riguarda la scuola del secondo ciclo ricordiamo che uno degli adempimenti che scade in questi giorni è la presentazione del documento del consiglio delle classi, così chiamato documento del 15 maggio, per le classi terminali della scuola secondaria di secondo grado. La seconda domanda a cui daremo risposta è la seguente, i tutor del PCTO a fine anno scolastico devono rendicontare il loro lavoro? Intanto diciamo che il PCTO sono i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, si svolge nella scuola secondaria di secondo grado negli ultimi tre anni di percorso e devono chiaramente rendicontare tutta l'attività svolta durante l'anno scolastico, segnalando quante ore fuori da quelle del regolare servizio hanno dedicato per la gestione e il monitoraggio del percorso per le competenze trasversali e per l'orientamento. Tale rendicontazione serve anche per giustificare il pagamento per lo svolgimento di tale attività. Terza domanda, quali sono i tempi per il pagamento delle attività svolte oltre l'orario di servizio da ritribuire con il fondo di istituto? Allora, se il docente o il personale ATA prendi conto di tutte le attività svolte entro la fine delle lezioni, dovrà ricevere il pagamento del fondo di istituto per le attività appunto svolte entro e non oltre il mese di agosto, per cui nel cedolino del mese di luglio oppure in quello del mese di agosto saranno inseriti i pagamenti del FIS, del fondo di istituto 2020-2021. Speriamo che questo video sia stato utile a tutti quanti e seguiteci ancora nel nostro sito www.tecnicadellascuola.it, nei nostri canali social Facebook e Youtube perché parleremo di questo e anche di altri argomenti nelle prossime giornate. Arrivederci e grazie. Grazie a tutti.